Ci occupiamo ora di cultura perché domani sera si svolgerà a Siracusa Mary Slam, una gara di poesia che metterà in palio la qualificazione alla fase nazionale. Vediamo di cosa si tratta in questo servizio. Sentiremo anche le parole di Salvorandazzo, uno dei poeti in gara. Una gara tra poeti, i cui elaborati saranno valutati da una giuria popolare. Chi vincerà si qualificherà per la fase nazionale che lo scorso anno si è svolta a Milano. Nove giovani siracusani e non solo si sfideranno domani sera in un locale cittadino, leggendo le proprie poesie e cercando di convincere i giudici non solo sulla qualità del testo, ma anche sulle proprie doti verbali e sul linguaggio non verbale. Sono questi infatti tutti i fattori che saranno presi in considerazione per determinare la classifica finale. Una gara particolare dunque in un clima di sana competizione sportiva. Il vincitore riceverà dallo sponsor un biglietto di andate e ritorno per la città, probabilmente Milano, in cui tra qualche mese si svolgeranno le finali nazionali. L'appuntamento è alle 21.30 presso il Namaste Bistrò, locale di Corso Umberto. I poeti si affronteranno in sfide a due, chi vincerà supererà il turno e così si arriverà a un vincitore unico che si aggiudicherà non solo la gara ma anche la qualificazione alla finale nazionale di giugno 2007, circuito Slem Italia e il biglietto aereo di andata e ritorno proprio per raggiungere la sede della finale. La giuria valuterà gli elaborati ma non solo? Non solo appunto, il poetry slam. Slem appunto nel gergo americano designa una sberla, sarebbe quella che il poeta dovrebbe dare allo spettatore appunto per conquistarlo e quindi entrano in competizione non soltanto la bellezza del testo ma vengono giudicati appunto per queste capacità di esprimere il testo anche attraverso il linguaggio del corpo eccetera eccetera. Il poetry slam nasce nel 1986 a Chicago per opera di un poeta operaio. Ma in realtà se noi andiamo a leggere gli idilli di Teocrito che sono datati 300 a.C. ci rendiamo conto che Teocrito descrive appunto una vera e propria competizione a colpi diversi tra Daphne dove le regole sono esattamente sovrapponibili a quelle del poetry slam moderno. Quindi possiamo considerarla una delle prime testimonianze documentate relative a un poetry slam.